in questo video vi parlerò dei popoli e dei fenotipi asiatici nei video precedenti abbiamo visto i tratti somatici e fenotipi degli italiani i tratti somatici e fenotipi degli europei qui vedremo appunto quelli asiatici i popoli asiatici vengono anche denominati come mongolidi oppure xanthodermi per via della loro colorazione della pelle giallastra essi si trovano in asia a nord e a est rispetto alla catena montuosa dell'Himalaya però sono anche presenti a livello delle isole del sud est asiatico in questo macro gruppo rientrano anche gli indigeni americani perché derivano appunto da questi asiatici quando l'umanità attraversò lo stretto di Bering dalla Siberia alle Americhe in questo video parleremo anche degli Amerindi quindi sarà un video abbastanza grande questi popoli hanno una statura media di 166 centimetri sono brevilini con dei capelli neri e lisci che in gergo tecnico vengono denominati come lissotrichi e a differenza di noi europei la perdita dei capelli e anche il fatto che i capelli con l'invecchiamento diventino bianchi sono abbastanza rari hanno un corto e quindi si definiscono come individui brachicefali e un profilo piatto ma gli zigomi degli asiatici sono di solito molto marcati l'indice nasale intermedio hanno l'occhio mongolico con la plica epicantica e quindi il cosiddetto occhio a mandorla la velocità è carente e hanno una prevalenza del gruppo B come gruppo sanguigno negli Amerindi però prevale il gruppo 0 sono comunque delle popolazioni eterogenee quelle dell'asia come continente di per sé perché abbiamo anche i mediterranei in parte abbiamo anche gli alpini che abbiamo già visto nei fenotipi diciamo dell'europa ma chiaramente ci sono vari gruppi che adesso andremo a vedere per esempio c'è il gruppo iraniano o persiano esso si trova in Iran Iraq Afghanistan e penisola alla arabica è longilineo e quindi alto con una pelle bruno bianca dei capelli e degli occhi molto scuri con una velocità abbondante un cranio allungato e un orcipite prominente anche le labbra sono marcate il profilo è dritto e convesso poi c'è anche l'arabo che si trova appunto nella Mesopotamia in Arabia e in Africa settentrionale molto simile all'iraniano ma la carnagione più scura e la statura è più elevata poi abbiamo il parmiriano o anatolico che si trova in Anatolia e in Pamir e chiaramente questo ha la pelle bianca e la velocità è abbondante un soggetto di solito brachicefalo con una regione occipitale piatta esiste la variante armenoide in Siria Libano e Armenia poi c'è il turco mongolico che si trova nelle aree del mar Caspio abbiamo qui individui leucodermi con capelli bruni ondulati e occhi scuri la brachicefalia è importante abbiamo anche degli zigomi marcati e una bassa statura l'uralico invece si trova tra i monti urali ha una bassa statura una velocità scarsa ed è mesocefalo le iridi sono più chiare e i capelli sono castani e ondulati poi ci sono gli indiani tra le aree del fiume indo e gage la pelle bruno intenso ma sono comunque individui che appartengono al gruppo degli individui leucodermi i capelli sono scuri ondulati alle volte le occhi possono essere a mandorla ma non lo sono sempre e le iridi sono o marrone o anche nere le labbra sono piene il cranio allungato e la regione occipitale è abbastanza marcata sono di solito individui in volto alti slanciati e longilinei poi ci sono gli ainu presenti nelle isole a nord del giappone sono bassi e brevilini la loro statura media è di 158 centimetri la velocità è marcata la pelle brunoscura ma sono sempre di matrice europea con dei capelli ondulati sono dolicocefali cioè il cranio è allungato le zigomi e le arcate sovraorbitari sono pronunciate il naso è marcato e le labbra sono pieni però tutti questi popoli dell'asia visto visti fino ad ora sono tutti quanti di matrice europoide ora vedremo gli asiatici che avevamo iniziato a descrivere all'inizio di matrice mongoloide abbiamo il tunguso che si trovano in mongolia e anche in siberia hanno un torace ampio e sono bassi e brevilinei la testa è grande la faccia è piatta gli zigomi sono prominenti e le labbra sono piene è presente l'applica mongolica poi abbiamo i sinico che sono presenti in cina settentrionale centrale ma anche in giappone non hanno molta velocità sono ovviamente xantodermi e mesocefali poi ci sono i paleomongolici presenti in indocina in giappone e in cina meridionale anch'essi xantodermi e brachicefali con l'applica mongolica anche se alle volte meno evidente può essere molto frequente la macchia mongolica o macchia di gengiskan la statura è bassa il tibetano invece si trova appunto nel tibet nelle valli dell'indocina molto simile comunque ai precedenti così come il siberiano poi ci sono tutta una serie di asiatici che hanno un tipo di classificazione particolare per esempio vedda oppure gli andamanesi che significa classificazione particolare che non si riescono a inquadrare appunto se sono di matrice europoide o di matrice appunto mongoloide gli andamanesi però sono diciamo un caso peculiare perché diciamo l'india di base è la nazione col maggior numero di popolazioni autoctone abbiamo i caucasici a nord ovest le astraloidi a sud i mongoloidi delle popolazioni autoctone che vivono nell'isole andamane a livello dell'oceano indiano chiaramente gli andamanesi cioè queste popolazioni autoctone delle isole andamane vengono utilizzati spesso come scusa da parte di alcuni noti ricercatori o scienziati per dire che la sua divisione in gruppi umani lascia il tempo che trova in quanto gli andamanesi di base hanno dei tratti isomatici abbastanza simili agli africani ma queste persone che utilizzano ciò come scusa evidentemente non sanno che gli andamanesi hanno raggiunto l'arcipelago delle andamane all'incirca 60 mila anni fa a partire dall'africa orientale ed è questa la ragione per cui i loro tratti isomatici sono appunto africani ma con questo non significa che i gruppi umani non esistano appunto magari è più difficile identificarli al giorno d'oggi perché ovviamente con la globalizzazione le ibridazioni tra gruppi umani sono maggiori rispetto chiaramente che al passato perché abbiamo raggiunto l'ultimo primo contatto verso la metà del novecento una volta colonizzate comunque sia queste isole questi abitanti sono rimasti poi essenzialmente isolati farò proprio un video a parte sugli abitanti delle isole andamane in particolar modo su Sentinel Island dove abbiamo i cosiddetti negritos che sono un popolo molto particolare e che non sono stati appunto ancora contattati a pieno dalla civiltà moderna. Questo è un po' quello che vi dicevo prima nel senso che sono oramai pochi li chiudano il contatto con il mondo esterno in particolar modo assenti nell'Island si ritiene comunque che gli andamanesi siano la popolazione più vulnerabile al mondo perché ovviamente avendo vissuto isolati per tanto tempo non sono stati in grado di sviluppare un sistema immunitario congruo per potersi difendere appunto dalle principali patologie però di questo appunto vi farò un video a parte su Sentinel Island altrimenti andremmo a fare poi un video eccessivamente lungo importanti poi tra gruppi asiatici di difficile collocazione sono i paleo indiani e poi ci sono anche i negritos che sono denominati come pigmei asiatici sono un po' come quelli africani sono molto bassi stanno in indonesia e sono brachicefali e con un proniatismo marcato poi sempre tra questi gruppi umani asiatici di difficile collocazione se europoidi o mongoloidi abbiamo appunto l'indonesiani o chiaramente questi ultimi si trovano in indonesia in giappone nella cina meridionale una caratteristica degli indonesiani è che la plica mongolica è assente e adesso andiamo anche a vedere i popoli delle americhe e quindi anche i trattisomatici fenotipi delle americhe ovviamente nelle americhe attualmente i fenotipi presenti sono dei fenotipi eterogenei perché come sappiamo dalla storia che abbiamo studiato tutti quanti noi le ondate migratorie sono state parecchie i nativi d'america hanno ereditato dei tratti somatici di mongolici gli eschimesi di melanesiani di australiani chiaramente gli nativi d'america provengono dall'asia dallo stretto di bering come vi ho detto prima e anche però dall'oceania alcuni e forse anche dall'europa come sembra dimostrare infatti la presenza di alcune caratteristiche europoide nei pelli rosse tipico popolo di queste aree sono appunto gli eschimesi o inuit che si trovano appunto in canada settentrionale in alaska e anche in groellandia sono robusti ed olicocefali la statura oscilla tra i 158 e i 164 centimetri hanno il cosiddetto riflesso del cacciatore cioè nel momento in cui una mano per esempio si sta congelando i vasi sanguini riescono ancora a dare degli ultimi meccanismi di protezione proprio per poter evitare diciamo il congelamento dell'arto e quindi la necrosi stessa dell'arto tipico è lo spararpioni che loro utilizzano come strumento perché vivono di caccia e di pesca soprattutto non hanno diciamo l'agricoltura ovviamente perché il clima non lo permette a quelle latitudini e hanno delle abitazioni tipiche che sono appunto gli igloo pensate voi come ha fatto l'uomo a progettare questi tipi di abitazioni incredibile la pelle giallastra i capelli sono lisci e neri la faccia grande con i zigomi marcati hanno una leptorinia una mandibola robusta e ovviamente qui hanno una plica mongolica poi abbiamo i columbidi che si trovano nelle isole auletine nell'america nord occidentale famosi sono i navajo e il cosiddetto studio che ho fatto sui navajo sugli indigeni navajo del navajo paradise praticamente videro alcuni scienziati che i navajo si nutrivano soltanto di carne rossa di bufalo e chiaramente non hanno mai sviluppato tumori e quindi c'è tutto un dibattito su questa questione poi abbiamo gli apache poi ci sono i soma e poi chiaramente le loro caratteristiche sono un cranio brachicefalo degli zigomi marcati un naso marcato e delle labbra sottili ma con una bocca grande che prende il nome appunto come caratteristica di macrostomia poi ci sono i planidi che si trovano nell'america settentrionale comprendono appunto pelli rosse moicani irochesi questi ultimi hanno appunto delle caratteristiche un pochettino più europoidi poi ci sono i sonoridi che chiaramente sono più alti più slanciati della pelle comunque si è scura gli alleganici che si trovano diciamo a est negli stati uniti che hanno una statura medio alta e comunque sia sono longi linei dalla pelle chiara poi ci sono i pueblo andini che si trovano in diverse aree del pianeta come sotto gruppi i maya in messico perché esistono ancora i discendenti dei maya ad oggi i quechua e gli aymara in perù e in bolivia gli auracani in cile ma sono anche presenti in colorado in arizona nelle mesoameriche in colombia in ecuador nel new mexico e così via le caratteristiche somatiche sono appunto una bassa statura tra 159 e 162 centimetri la corporatura è tozza con il torace ampio soprattutto negli andini perché vivono sugli altipiani dove l'area è rarefatta e quindi un torace più ampio permette una respirazione più efficiente la pelle bruno olivastra e i capelli sono lisce e neri il cranio brachicefalo gli stimidi anche essi hanno una bassa statura sono un po' simili ai pueblo andini e poi ci sono i brasilidi amazzonici che si trovano appunto come dice il nome stesso in amazzonia nelle zone forestali del polmone della terra e quindi nella cosiddetta foresta amazzonica in brasile lungo le aree costiere in venezuela e in guayana la statura è bassa sono robusti ma dolico cefali la pelle è bruno giallastra i capelli sono neri lisci il naso è largo parlano le cosiddette lingue arawak e tra questi abbiamo gli auracani i caribi e i tainos interessante il caso antropologico dei tainos che sono un gruppo come abbiamo visto degli amazzonici ma sono tra le prime popolazioni amerindie a popolare i caraibi sostanzialmente e secondo molti storici la scomparsa di questo popolo si è verificata sostanzialmente per due meccanismi genocidi commessi dagli europei durante le conquiste e le malattie infettive ovviamente portate dai colonizzatori quando poi i primi navigatori europei raggiunsero i caraibi tainos stavano appunto già perdendo contro l'etnia rivale caribe secondo molti antropologi comunque sia i tainos diciamo che si ibridarono con gli europei dal momento che l'attuale popolazione presente ai caraibi in particolar modo a puerto rico presenta dalle analisi gelettiche un'elevata scendenza taino e quindi probabilmente per questo motivo si sono ibridati però in realtà è difficile adesso ritrovare un taino in quelle aree e molte ad oggi rivendicano io ho una discendenza taino chiaramente diverse persone appunto come vi ho detto si identificano tainos come dominicani portoricani cubani l'oloringua e l'awarac ma molti cittadini oltre che essersi ibridizzati con gli europei sono anche ibridati con gli africani gli afroamericani cioè gli schiavi che furono presi dall'africa e portati nelle americhe per lavorare nelle piantagioni poi abbiamo i patagoni che sono i bororo per esempio o liona oppure i telewiki e hanno una statura molto alta questi ultimi quindi sono per lo più slanciati vivono nel deserto della patagonia poi ci sono i lagidi che sono diciamo più bassi e tozzi i fuegini magellanici che sono praticamente a rischio di estinzione e vivono in aree marginali o di rifugio dell'america meridionale nella cosiddetta terra del fuoco tra questi gli indigeni aromami sono molto 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 importanti e hanno fatto diciamo parecchi studi studi essi ma nelle americhe per via della storia che abbiamo visto abbiamo anche gli europei che possono essere inglesi francesi spagnoli o portoghesi che si sono stanziati lì si sono ibridati con gli africani con i nativi d'america e così via e quindi hanno dato luogo al cosiddetto fenomeno del meticciamento bene ragazzi con questo video sui fenotipi e tratti somatici dell'asia e delle americhe ho terminato nel prossimo video andremo a vedere appunto fenotipi e tratti somatici dell'oceania